La crescita culturale dei bambini attraverso libri e lettura è uno dei motivi per cui la scuola dell'infanzia Maestre Pie Venerini di Pesaro ha considerato la Biblioteca San Giovanni al centro del suo progetto. Il tema di quest'anno del Venerini Day, giorno dedicato a Rosa Venerini, religiosa e fondatrice dal 1685 di circa 40 scuole in Italia rivolte solamente all'educazione femminile, era quello di riprodurre un luogo della propria città che potesse essere focale per lo sviluppo dei bambini. Con materiali di riciclo e recupero come grucce o scatoline che contenevano i tamponi, la scuola di Pesaro ha scelto di realizzare un modellino della Biblioteca San Giovanni in cui hanno preso parte una quindicina di bambini dai 3 ai 5 anni e i loro genitori. Una realtà che dal primo al 26 marzo è esposta all'interno della stessa Biblioteca di Via Passeri. La Biblioteca San Giovanni perché era su invito della provincia per questo Venerini Day sono state date delle indicazioni. Per noi la Biblioteca San Giovanni è molto importante, è un centro dove si favorisce la cultura, la fantasia. È un punto di incontro per giovani ma anche per i più piccoli perché anche i nostri sono venuti varie volte a leggere e a visitare la Biblioteca. Plastica, sughero, cartone e legno. Questi alcuni dei materiali utilizzati da genitori, bambini e maestre per portare a termine dopo ore di lavoro e impegno questo modellino. Il progetto aveva come punto focale proprio il riuso e il recupero dei materiali, sia cartone per quanto riguarda la struttura dell'edificio principale, appendiabiti, di vecchi appendiabiti per simulare le capriate della struttura della Biblioteca San Giovanni, scatole varie, stoffe, scampi. Ogni genitore si è prodigato a utilizzare a suo modo materiali di recupero. Un concorso al quale partecipano tutte le scuole che portano il nome di maestre P.E. Venerini che in tutta Italia se ne contano circa una quindicina. La prima che fu fondata è quella di Viterbo, città natale di Rosa Venerini, che rivolse il suo insegnamento solo alla parte debole della società di allora, le donne. Tra tante difficoltà riuscì in quest'intento, anticipando i tempi e trovando nel Papa di allora il supporto della Chiesa. Il legame con Pesaro dura da 270 anni, ma solamente dal secondo dopoguerra l'insegnamento di questi istituti in Italia si allargò anche ai maschi. Lei si è accorta, diciamo, delle ragazze di quello che in quel periodo mancava. Non potevano studiare, perciò non sapevano né scrivere né leggere. E' così che nel 1685 ha aperto la prima scuola pubblica femminile in Italia, a Viterbo.